Salve alla Juve Il mio pensiero già l'ho espresso, non lo so se avete eseguito in un'intervista in nazionale Ricordalo dai, non tutti l'hanno seguito No, ho detto che per noi napoletani è un tradimento, come lo ripeterò sempre Però ora dobbiamo pensare a noi e cercare a tutti i costi di...